Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi voglio fare qualcosa di un po' differente, ve l'avevo annunciato nel video precedente che mi sarebbe piaciuto molto iniziare a portare sul canale anche i giochi di ruolo. E' anche vero che i giochi di ruolo sono un argomento che proprio io fuori nella vita di tutti i giorni non tratto più, anche perché non hanno età, non è perché ho 37 anni, quasi 40, c'è gente che continua a giocare anche con i gruppi storici a 45-50 anni, non c'è età per i giochi di ruolo come nemmeno per i board game. Però non ho più tanto modo di giocare col vecchio gruppo di un tempo e quindi tutte le partite che faccio, o comunque al 99% le faccio online, quindi su internet, è difficile trovarsi da al vivo. Però comunque ho ancora la possibilità di fare i giochi di ruolo, se ho detto quasi quasi li riporto sul canale, li porto per la prima volta sul canale perché è un argomento appunto che mi interessava tantissimo. Ho provato a contattare la Weird Edizioni che ci hanno mandato, visto che in passato avevo visto il Kickstarter, avevo sentito parlare di questo Coriolis che ora vi presenterò, mi era venuta voglia di provarlo, perché tutte le decisioni ne parlavano non bene, benissimo, sia quelle italiane che quelle comunque straniere, perché vi ricordo che Coriolis è un gioco della Free League, come leggete qui davanti, è portato in Italia, è tradotto in italiano, ringraziamoli ovviamente di cuore, dalla Weird Edizioni che io voglio, accorgo l'occasione per ringraziare di cuore, perché come gli ho scritto mi hanno subito risposto, hanno accettato la proposta di collaborazione, sono veramente contento di questa cosa, vi ringrazio di cuore per aver accettato, io spero ovviamente che il video vi piaccia, provatemelo sapere voi, e che possa essere una cosa abbastanza duratura. Comunque, il gioco in questione si chiama Coriolis ed è una space opera, è un gioco di battaglie, di esplorazioni spaziali, che racchiude dentro di sé tutto quello che noi fan, magari dello sci-fi e della fantascienza amiamo, perché dentro Coriolis ritroviamo l'ambientazione un pochino cupa di alien, ritroviamo un po' quell'ambientazione un po' space opera, arabbeggiante, Arabian Nights, come il titolo si definisce, anche rivista perché no, un pochino in titoli come Dune o come Firefly, e ha delle meccaniche anche per corporazioni, lotta, fazioni e cose del genere, che un po' potrebbe ricordare Star Trek, quindi qua giù abbiamo tutto quello che ci piace della fantascienza per creare, secondo me, una space opera fatta veramente bene. E la cosa principale, che ora poi vi farò vedere un po' il manuale, non c'è unboxing, non c'è nulla ragazzi, perché il manuale è di un gioco di roll, non è un gioco da tavolo, la cosa che mi ha colpito da morire, come si dice sempre ragazzi, quando c'è un film fantasy, un racconto fantasy, un romanzo o un fumetto fantasy, ormai è difficile inventare qualcosa di nuovo. Sì, si prendono un po' di canoni, e c'è qualcosa come Martin, delle cronache del ghiaccio e del fuoco, che mette insieme vari generi e tira fuori il suo romanzo, molto particolare e molto originale, però comunque prendendo a piene mani, a destra in manca. Ed è quello che fa Coriolis, perché, ve ne potrei dire tanti ad esempio, in Coriolis non c'è il viaggio nell'iperspazio, le navi non fanno il salto, come Alien. Ci sono comunque motori FTL e tutto quanto, ma le navi, la tecnologia sembra tirata fuori dai vecchi film di fantascienza anni Ottanta, quindi le navi non fanno il salto nell'iperspazio, ma devono entrare dentro delle specie di wormhole, come abbiamo visto appunto su Evil Online, che accelerano il processo di salto e permettono di spostarsi da un settore A di partenza a un settore B. E però riesce ad essere anche originale nel suo, perché alla fin fine hanno creato un'ambientazione, secondo me, credibile, fatta bene, e che sì, all'inizio quando inizia a leggere il manuale, questa l'ho già vista in Alien, questa l'ho già vista in Dune, questa qui l'ho già vista in Firefly. Però poi dopo, approfondendo tra l'altro un manuale di 300 pagine, bello grande e corposo, quindi ci avete da leggere, tra l'altro tradotto bene, fatto veramente l'impaginazione da Dio, fatto veramente veramente bene, e leggendolo, andando avanti, scoprite che invece è un'ambientazione molto particolare. Stazioni orbitali, il sistema di Coriolis, che è il sistema principale, che ho ravinare un pochino la storia, facendovi vedere qualcosa del manuale, è il sistema, è la stazione orbitale principale, dove tutte le fazioni di questa, tra molte virgolette, tanto poi non è mai così, democrazia spaziale, ruota in tutto intorno a questa stazione di Coriolis, nel sistema di Kua. E in questa ambientazione ci sono 37 sistemi. 37 sistemi che sono ovviamente stati tutti quanti scoperti, tutti quanti colonizzati, ovvio non è che su ogni sistema, su ogni pianeta di questo sistema, ci sia forma di vita o sia stato colonizzato, comunque tutti quanti questi 37 sistemi, sono stati collegati da questi wormhole, e quindi è possibile fare i viaggi e spostarsi. Questo ricorda un pochino, se vogliamo, senza wormhole a parte, immaginatevi un viaggio a curvatura, però potrebbe ricordare un pochino Star Trek. Prende un po' a piene mani da tutte le parti, ma alla fin fine riesce a fare un prodotto proprio, con un'ambientazione propria, e secondo me nel suo anche abbastanza originale. Vi faccio un pochino vedere com'è il manuale. Il manuale, come vedete, bello dai toni cupi, come vi ho detto, no? Questa stella a distanza, e questo pianeta alla fin fine oscuro, con questi tre astronauti, che ricordano un po' l'equipaggio dell'anno stromo di Alien, quando arrivano sull'LV 426 Acheron, se vi ricordate, ed è bella come copertina. Ecco, sinceramente, onesto, come sempre, la prima cosa che mi attirò di richiedere Coriolis fu proprio l'immagine che c'è qui, perché mi ricordava Alien, e infatti non ho sbagliato perché vi ricordo, poi ci farò una recensione però più avanti, sicuramente verso ottobre e novembre, sempre della stessa casa editrice, sempre degli stessi sviluppatori della Free League, a fine anno uscirà il gioco ufficiale della saga di Alien, ambientato tre anni dopo i fatti della Sulaco di Alien Scontrofinale. Vedete che non avevo sbagliato. Comunque il manuale è molto bello, vedete Free League, e in Italia a cura della Weird Edizioni. Questa è la mappa principale, che ci serve anche per avere un riferimento in gioco, del sistema principale, che è quello di Kua. E vedete, ci sono, c'è la stella, con quattro tondi intorno, che sarebbero i wormhole, perché alcune stelle hanno un solo wormhole, che non si sa che l'abbia messo lì, sicuramente un'entità aliena, costruttori, architetti, persi nel tempo, di cui nessuno sa niente, però comunque ci sono, e servono per fare i jump drive, i jump gate, per spostarsi da un sistema stellare a quell'altro, e poi tutti quanti i pianeti. Il gioco vi dà anche un riferimento, una distanza in UA, che praticamente voi, per capire a livello di gioco, quanto impiegherà di tempo la vostra nave per spostarsi da un pianeta all'altro, dovete vedere sempre la distanza da un pianeta all'altro in UA, e dividerlo ovviamente per la velocità della vostra nave, e per il tipo di nave che avrete, perché in questo gioco, le navi vanno da un minimo di TR1, a un massimo di TR5. Voi dividete la distanza per la velocità della vostra nave, e quella sarà la distanza in giorni, che dovrete percorrere, per spostarvi in un sistema. Il regolamento, ragazzi, è molto semplice, però non ve lo posso descrivere tutto minuziosamente, perché non è come fare un gioco da tavolo, un board game, un gioco di ruolo è sicuramente più, no complicato, però un pochino più prolisso nel regolamento, però vi assicuro, che un'altra cosa che mi è piaciuta, o sembra fatta apposta per me, è un regolamento molto semplice, si basa tutto sul tiro di un D6, uno più D6 ovviamente, ed è il classico gioco dove, a una statistica chiave, è collegata un'abilità, che ne so, un'abilità di scienza, sarà collegata a livello di intelligenza del personaggio, quindi voi, se avete 5 di intelligenza sul personaggio, e 5 a livello di scienza, dovrete tirare in tutto 10 dadi, caratteristica più skill, e questo gioco dice, i risultati sono soltanto il 6 sul dado, un 1 invece, non è sempre un fallimento, ma in tante prove potrebbe esserlo, comunque, in questo gioco, hanno successo soltanto i valori di 6 sul dado, quindi voi tirate 10 dadi, escono due 6, quelli sono due successi, per superare una prova, dovete fare un successo, almeno che la prova e il Game Master, non richiedono diversamente, tutti i successi da 3 in poi, diventano critici, con regole particolari, quindi un successo 2, è un successo normale, avete sparato, avete colpito, avete provato a riattivare i reattori, della nave, li avete riattivati, 3 o più successi, invece sono un critico, e quindi la prova sarà stata superata, molto egregiamente, e questo è il regolamento di gioco, tra l'altro, le immagini che ci sono, sono veramente bellissime, guardate tra l'altro, la classica nave, che viaggia nel vuoto siderale dello spazio, cioè già ti immagini un Anostromo, un Asolaco di Alien, bellissimo, cioè il classico pianeta, che qualcuno aspetta di arrivare lì, non tanto per colonizzarlo, perché vi ho detto, l'ambientazione è quasi tutta colonizzata, colonizzata nel gioco del ruolo di Coriolis, però comunque ci sono ancora pianeti, in sistemi ancora da scoprire, o comunque analizzare a fondo, con creature aliene, e varie entità anche, che riguardano qualcosa di un pochino più oscuro. Qui Coriolis in breve, ci dice un po' che tipo di gioco è, come funziona, comunque l'ambientazione di Coriolis è molto semplice, la Terra, ovviamente da una parte, perché stava finendo le risorse, e dall'altra invece il gusto, l'amore per l'esplorazione, che tutti quanti vorremmo, se no sarebbe inutile anche mandare sonde nello spazio, e navi spaziali, e cose del genere, fu decretata una missione sul pianeta Terra. Due navi, due arche grandissime, come se vogliamo, in Mass Effect Andromeda, la Zenith, e la Nadir, furono costruite, con all'interno equipaggi, che parlavano addirittura di varie decine di migliaia di persone a bordo, perché erano nuovi coloni, che dovevano viaggiare fino alla stella di Aldebaran, per vedere che cosa c'era, per scoprire insomma se c'erano degli esopianeti abitabili oppure no. Anche perché con studi fatti recentemente abbiamo visto che ci sono esopianeti non troppo distanti dal nostro sistema solare, da Sol, e quindi sarebbe stato forse possibile trovare esopianeti abitabili in cui magari ci fosse l'acqua liquida per originare la vita. E queste due arche, la Zenith e la Nadir, partirono. Fecero un viaggio, ovviamente non c'erano né Jumpgate e né FTL su queste prime navi, e quindi fecero un viaggio di centinaia di anni. Addirittura a bordo di queste navi la gente nasceva e moriva, e si sono avvicendate varie generazioni, quindi in questo viaggio di 200-300 anni, prima di arrivare alla stella di Aldebaran, se ne sono viste di tutti i colori. A un certo punto del viaggio la storia ci racconta che la nave Nadir è scomparsa nel niente, senza lasciare traccia, quindi l'unica che arrivò a destinazione, tipo 200-300 anni dopo, fu la Zenith, l'Arca Zenith. Immaginatevi una nave colossale che potrebbe essere grande, come una New York, o comunque una città, una megalopoli veramente immensa. Arrivò a destinazione per scoprire che in questo sistema di QA, che venne ribattezzato così ovviamente da loro e dagli zenitiani che arrivarono, era già stato colonizzato. C'erano già gli esseri umani, cioè questo viaggio che è durato centinaia di anni, per poi arrivare laggiù e scoprire che era già stato tutto quanto colonizzato. Perché diversi anni dopo che la Zenith e la Nadir erano partiti dal pianeta Terra, dal nostro sistema solare, nelle vicinanze del Sole, della nostra stella, era stato scoperto un wormhole. E quindi, mandando una missione di esplorazione all'interno di questo wormhole, erano finiti direttamente nel sistema di QA. Quindi quando l'essere umani... Verrebbe un po' da ridere, perché quando queste arche che ci hanno messo 300 anni per arrivare sono arrivate, gente morta, rinata, generazioni, zii, nonni, prozii e tutto quanto, hanno trovato altri esseri umani provenienti dalla Terra che avevano già conquistato tutto. Ma non soltanto, si erano dati battaglia e avevano praticamente iniziato la guerra dei portali. Infatti c'era stata una prima guerra e una seconda guerra dei portali ed infine quando è arrivato il grosso del carico dalla Terra a bordo della nave Zenith, vi ricordo che la Nadir era scomparsa, fu smantellata completamente la nave e fu con i pezzi della nave dell'Arca Zenith fondata alla stazione di Coriolis che poi è l'ambientazione del gioco. Quindi ragazzi, fondamentalmente la storia è questa qui. È stata fondata la stazione di Coriolis come punto nevralgico, sono stati scoperti altri wormhole che collegano a questi 37 sistemi solari ed è stata creata, che poi mi verrebbe da ridere, comunque una specie di democrazia spaziale dove i primi arrivati, che sono ovviamente quelli che dà la Terra a trovare nel wormhole al sole per arrivare, e gli Zenitiani, perché le due fazioni principali sono queste, i primi arrivati e gli Zenitiani, hanno praticamente fatto questo consiglio dove tutti si sedano attorno al tavolino per cercare, insomma, di mandare avanti il commercio e le intese spaziali nel migliore dei modi, colonizzare nuovi pianeti e cose del genere. Però da un gigante gassoso nelle vicinanze è comparsa una fazione aliena che loro si nominano gli emissari e sono arrivati praticamente sulla stazione di Coriolis presentandosi come dei, divinità, che in questo gioco sono chiamati icone, hanno chiesto un posto nel consiglio e stanno lì a fare il bello e il cattivo tempo e sembra che anche, un po' tra molte virgolette, per colpa loro, stia per iniziare una nuova ed ennesima guerra galattica che ovviamente vedrà frapposte le due fazioni principali che vi ho detto. Il regolamento, ragazzi, è semplice. C'è la creazione del personaggio che parte dal capitolo 2 che vi dà degli archetipi. Se vedete qui, hanno i classici vestiti un pochino arabi, vedete, una specie di turbante addosso. Infatti, il gioco si autodefinisce un Arabian Knights. Il gioco vi dice, scegliete un archetipo che potrebbe essere uno scienziato, un pilota, un contrabbandiere, un esperto informatico oppure, perché no, anche un minatore, una persona comune vi darà delle linee guida su quale divinità potete pregare, su quale tipo di equipaggiamento potete avere, se è un personaggio ricco o povero, quindi anche i crediti che in questa ambientazione si chiamano beer di partenza e ovviamente vi darà dei punti da spendere all'inizio che saranno punti da spendere nell'abilità, nei tratti, quindi nelle caratteristiche e nei talenti. Vi ricordo che il gioco è molto semplice e ovviamente ci sono anche regole un pochino più avanzate, non complicate e brutto, avanzate, però il gioco vi assicuro è molto semplice ed è tutto vedere caratteristica chiave. Skill collegata alla caratteristica, quindi come vi ho detto prima, che ne so, un esperto informatico, informatica magari va con la scienza. Valori di scienza 4, esperto informatico 3, quindi 4 più 3, 7, dovrà tirare 7 dadi e ogni 6 che uscirà sarà un successo. Di solito le prove richiedono un successo soltanto, se usciranno 3 o più successi saranno dei critici. Cosa veramente importantissima di Coriolis, che secondo me è la parte più bella e che mi è piaciuta in assoluto o più di tutte. La cosa più bella del gioco, anzi, le due cose più belle del gioco sono la prima, siete l'equipaggio di una nave, quindi non è come in tutti i giochi di ruolo che, sì, magari c'è il guerriero, c'è il cherico, c'è il nano, c'è l'erfo, c'è il mago, vi conoscete ragazzi? No, non ci conosciamo, vi faccio incontrare io in una locanda di partenza. No, voi qui nel gioco potete decidere, sì, se vi conoscete bene, se vi conoscete appena, comunque siete tutti parte di un equipaggio, dello stesso equipaggio, quindi quella è una regola principale che non potete ovviamente infrangere e dovete essere l'equipaggio di una nave. Ma la cosa bella è che non solo dovrete crearvi i vostri personaggi, ma dovrete ad esempio decidere a bordo chi è il capitano, chi è l'ingegnere, chi è l'ufficiale scientifico, chi è l'addetto alle armi, insomma ci sono cinque roli a bordo della nave. In più, fatti i vostri personaggi, dovrete perdere un altro po' di tempo per creare la vostra nave spaziale. Secondo me questa è la cosa più interessante di tutto il gioco, perché il gioco, quando inizierete a giocare, vi darà la scheda del personaggio e accanto alla scheda della nave, scheda del personaggio è vostra e personale. Scheda della nave invece dovrete tutti quanti mettervi a tavolino e decidere che tier di nave volete, che va dall'1 al 5. Ovviamente ragazzi, il 4 e il 5 sono navi fregate da guerre, navi minerarie. Dall'1 al 3, l'1 è un caccia, o comunque un drone è una cosa piccola, la 2 è una nave massima a due posti, già dal tier 3 in poi sono navi da 4 o 5 slot che potete usare, infatti è una nave classica per iniziare la partita, è una nave da 3 slot, come io ho dato a quelli, ai giocatori con cui sto facendo un'avventura, tra l'altro usando tabletop simulator che è molto carino come programma. Comunque dovrete scegliere questa nave, dovrete scegliere tutti quanti, il gioco vi dirà, ok una nave di tier 3 ha 20 moduli a bordo, ok voi dovrete andare nella pagina moduli del manuale e scegliere tutti quanti i moduli, che ne so un workshop per le riparazioni, non ce lo metti le cabine dell'equipaggio, non ce lo metti le camere dell'ipersonno, non ci metti che ne so la plancia di comando, oppure il reattore, ovviamente dei pezzi saranno predefiniti per ciascuna nave, tra l'altro potete anche disegnare la forma sulla scheda della nave e tutto quanto, immaginandola un po' come vi pare, e dovrete installare i sistemi, gli armamentari e tutto quanto, e a quel punto sarete pronti per iniziare l'avventura. Tra l'altro il manuale è veramente bello, ragazzi, perché guardate, non è tanto il fatto che è bello, cioè è proprio già, cazzata, tutto il colore scuro con le stelle di sfondo, le costellazioni, oppure anche i disegni che ci sono sopra, sono belli, cioè già ti calano, già il manuale fa il 50%, l'immagine fa il 50% e ti cala veramente nell'ambientazione. Qui i fan di Alien, perché io l'ho preso, non da fan di Star Trek o da fan di Firefly, ma da fan di Alien, mi ci sto divertendo veramente da morire, e ragazzi, è veramente un giocone della madonna, credetemi. Quindi ragazzi, in conclusione, Coriolis è un gioco, non è di nicchia, per niente, e forse questo è il punto che veramente hanno fatto un bel terno la Weird a portarlo in Italia, perché non è un gioco di nicchia. Questo è un gioco per tutti gli amanti dello spazio. Ora, non è un high fantasy o un grande sci-fi, perché qui l'unica razza è quella degli esseri umani, sì, ci sono altre razze senzienti, demoni addirittura, dello spazio scuro, di quando le navi sbagliano i salti nell'ipespazio, c'è la possibilità che vengono portate a bordo creature fatte di materia nera di cui ha avvolto l'intero spazio, l'intero universo, quindi comunque ci sono, però creature senzienti, cioè non potete interpretare un Wookiee, per farvi un esempio, di Guerre Stellari o un Ferenghi di Star Trek. Qui siamo tutti umani, l'unica razza che ci sono razze di sottomani, che il manuale vi spiega, ma non vi voglio rovinare la sorpresa, perché è un capitolo che veramente ho apprezzato veramente tanto, e poi questi emissari venuti, come avevo detto, da una gigante gassosa per entrare nel consiglio e riportare un po' scompiglio nell'ambientazione del sistema di Kua in tutti quelli collegati, nella stazione di Coriolis che non sono giocabili, però, e quindi sono una fazione non vi dico avversa, ma che comunque crea sicuramente spunto per tante avventure. E il gioco ci riesce bene, cioè, sì, inizialmente leggendolo, ve lo giuro, ragazzi è normale, leggendolo fai o Firefly, o Alien, o Star Trek, o le citi tutti dal primo all'ultimo, però amalgamati e messi insieme non è il vecchio mondo di Warhammer Fantasy, che Bretonni è il Cavaliere Verde, cioè l'è preso dalle cronache francesi o dalle storie di Rear 2, dall'altra parte, la foresta degli ilfi di Hath e Loren, ragazzi, è il bosco di Loren, del Signore degli Anelli, cioè Warhammer amalgamava tutto insieme, però, non creava niente di originale Warhammer, a parte i guerrieri del caos, che possono guerrieri dracca e di lupo solitario, perché a me non mi fregate, come nerd, invece questa prende a piene e mani da più parti, però le fonde bene, cioè le fonde bene e anzi crea qualcosa di originale, è un po' come Martin in Game of Thrones, ha preso dappertutto, ma si è fatto una cosa sua, che nessuno gli può dire, sia preso, ha ritagliato parti di giornale e l'ha messo insieme, ma poi alla fin fine il disegno che è venuto fuori è suo personale e nessuno gli può dire niente, e quindi è un'opera veramente fatta bene Coriolis e lo consiglia a tutti gli amanti dei giochi stellari, ma vado oltre, a tutti gli amanti dei GDR, perché ragazzi è un gioco veramente bello, è un po' la leggenda dei Cinque Anelli, ma a me non mi piace il Giappone e poi ci giocano tutti, oppure anche semplicemente un'ambientazione che potrebbe essere qualcosa alla Star Trek o anche all'Alien, che bene o male, sì, può piacere o non piacere o un Dead Space, però non sentirete mai qualcuno dire che schifo, l'ambientazione schifosa non mi è piaciuto, ragazzi lo dovete prendere assolutamente. Come voto finale li do assolutamente per come è fatto il manuale e per l'ambientazione che hanno creato partendo da un prodotto, ve l'ho detto, che ha preso a piene mani da un bacino ovviamente immenso di cultura spaziale di questa ambientazione qui, li voglio dare un 9 su 10 anche e soprattutto perché la Free League ha fatto un regolamento facile, cioè, sarò duro io, sarò scemo, non c'è problema a dirlo, però è bello quando leggete un manuale di un board game o di un gioco di roll dovete capirlo alla prima, cioè non è che devo leggere 300 volte le cose per capire una regoletta stupida alla girza del Signore degli Anelli dove anche per fare uno starnuto dovevi andare a leggere tre pagine di manuale e tirare dei dadi, cioè non c'era niente di automatico, qui tirate i dadi, è uscito un 6, no, sono usciti 5, 4, 3, 2, 1, hai fallito la prova, basta, è uscito un 6, sì, prova superata, è colpito il nemico e quindi per quello è fatto veramente bene, quindi un 9 su 10 e ragazzi consigliatissimo, quindi è un 9 su 10 complessivo, regolamento, storia, ambientazione, mostri, insomma disegni, disegni è un 10 su 10 invece vabbè comunque è veramente fatto bene, quindi un voto complessivo rasenta la perfezione per come la vedo io, se gli devo dare dei voti a sfavore ma non è una recensione ragazzi professionale, è, perché non sono un professionista soprattutto, è un parere personale, io non ho apprezzato tanto il fatto di questa ambientazione qui che ci si è voluto spingere per forza nel mezzo il fatto dei wormhole, quindi dei salti nell'ipespazio, perché una a me gli FTL non piacciono, a me piace Alien, ve l'ho detto, non mi piace Firefly e soprattutto io wormhole non l'avrei messi perché è bella l'ambientazione di quest'arca tipo Andromeda, Andromeda di Mass Effect, quando arrivano sono i primi che sono arrivati, tutt'al più trovano una nave che è arrivata prima di loro che era partita dalla terra insieme a loro, cioè però mi sembra un po' far ride, cioè sembra quasi in un film di Ezio Greggio, partiamo alla volta di questa stella di Andemaran, arrivano laggiù dopo 300 anni sfatti, oh vecchio, il capitano è morto, c'è il pronipote del capitano, arrivano, oh siamo arrivati, poi arrivano laggiù e magari è già colonizzato, c'è la gente al bar che beve, ok, chi sono quelli lì? Cioè, è stata un po', no grottisca no, però io non l'avrei fatto, così avrei fatto, che quando la nave l'arca è arrivata hanno trovato un sistema distrutto da guerre, di mondi antichi che non si trova niente se non qualche nave alla deriva o qualche relitto in qualche cimitero spaziale delle navi o sui pianeti, però a parte quello o poc'altro, quello l'ha pensato un pochino meno, io non ce l'avrei messo i wormhole, non ce l'avrei messo, avrei fatto che loro sono arrivati con la zenith e sono stati i primi, punto e basta, e hanno trovato degli altri problemi, però vabbè, va bene uguale, non è quello un problema, se gli ho dato un voto in meno è soltanto per questo. Vi ricordo ragazzi che attivo il kickstarter, ovviamente sempre grazie la Weird Edizioni del gioco di ruolo di Conan e il Barbaro, ovviamente non è basato sui film di Momo e di Schwarzenegger ma sui romanzi di Howard che tra l'altro tutti sono veramente capolavori, è una delle mie ambientazioni fantasy preferite, è low fantasy, quindi in descrizione a questo video trovate il link per Coriolis e il link per il kickstarter del gioco di ruolo di Conan e il Barbaro che è iniziato da pochi giorni, ragazzi, ci sono degli stretch goal paurosi, non ve lo fate scappare e anche questo lo voglio, Chrome non vi ascolta. Quindi ragazzi, consigliatissimo, trovate tutti i link in descrizione per acquistarlo, prendetelo, date retta, tanto io ve lo dico sinceramente, se non mi fosse garbato non ve l'avrei portato sul canale, quindi andate assolutamente a comprarlo, poi è fatto veramente bene, ci sono anche i dadi, ad esempio i dadi proprio di Coriolis se li volete prendere a parte, la mappa stellare, già la prima avventura tradotta in italiano alla nave morente che è bellissima, insomma andate in descrizione, poi sempre in descrizione trovate il nostro link di Instagram, nel caso volete seguirci anche lì mettiamo informazioni piccole, pilloline di recensione o d'altro, il nostro link Type-E che vedete anche in sovrimpressione, nel caso vogliate fare una donazione e dare supporto a questo nostro progetto che ora cerchiamo di inserirci anche i giochi di ruolo perché ce l'hanno richiesto e perché ci interessano e poi casella postale sempre vedete scritto qua sotto se volete mandarci a volte un gioco di ruolo o un gioco da tavolo o un gioco usato perché no magari farci anche un regalo in cui noi faremo sempre una recensione e ringrazieremo in un video come vi potete andare a vedere tranquillamente il video che abbiamo fatto su Grosso Guarciana Town io ragazzi vi saluto ancora grazie alla weird edizioni per averci fornito una copia di questo gioco bellissimo dateci un'occhiata perché è veramente veramente molto bello non vi preoccupate se non ci avete gente per giocarlo dal vivo tante persone mi dicono ma io non ho amici per giocarlo dal vivo sono solo oppure siamo in due non bastiamo ci sono gruppi di gioco forum gruppi ufficiali e con Tabletop Simulator come sto facendo io lo sto giocando con gente che addirittura sta in varie parti dell'Italia o in Svizzera quindi non vi preoccupate ragazzi compratelo e poi la gente si trova o poi se qualche volta volete fare una partita l'avete comprato io mi metto anche a disposizione per fare una partita online con voi ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto fatemelo sapere e alla prossima ciao a tutti